Ce l'abbiamo fatta, finalmente a raggiungere l'ingresso del Buddha. Grazie per la visione! Guardate quanto è enorme! Noi siamo sopra, penso scenderemo. Di pronto c'è un film. Ok, dopo qualche due ore di coda, che partiva da lassù, ce la stiamo per fare. Eccoci, siamo sulla scaletta che costeggia il Buddha. Si vedono anche un pezzo di mani. Siamo al fondo del Buddha. E' veramente enorme la pressione. Contate che le persone arrivano al piede, praticamente. Allora c'è usata quel punto. Allora c'è, come si deve parlare. Oggi chegou anche alla shoe manuale che lo succede. A estilo caldini, a centrobolico della hands signale e produzi l'amore. Non c'è la Antonia è tutta. Domenico tutti... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.